Senza timori vogliamo prendere il largo nel mare digitale, affrontando la navigazione aperta con la stessa passione che da duemila anni governa la barca della Chiesa. Lo ha detto il Papa parlando ai partecipanti al convegno della Chiesa italiana sul tema testimoni digitali. Più che per le risorse tecniche pur necessarie, ha detto il Papa, vogliamo qualificarci abitando l'universo digitale con un cuore credente che contribuisca a dare un'anima all'interrotto flusso comunicativo della rete. Esorto tutti i professionisti della comunicazione, ha aggiunto il Papa, a non stancarsi di nutrire nel proprio cuore quella sana passione per l'uomo che diventa tensione ad avvicinarsi sempre più ai suoi linguaggi e al suo vero volto. Vi aiuterà in questo una solida preparazione teologica e soprattutto una profonda e gioiosa passione per Dio, alimentata nel continuo dialogo con il Signore.